Voi rendete alla comunità un servizio impegnativo e indispensabile, spendendo le vostre energie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e potete essere promotori di solidarietà, specialmente verso i più deboli e indifesi. Si è rivolto così Papa Francesco questa mattina ai Carabinieri, incontrando i militari della Compagnia San Pietro, che collaborano sempre con le istituzioni della Santa Sede e in modo particolare durante l'Anno Santo della Misericordia, garantendo la sicurezza e il sereno svolgimento dei molteplici eventi e cerimonie. Quella dei Carabinieri è un'attività che richiede professionalità e senso di responsabilità, ha detto il Pontefice, ricordando come queste qualità non sono slegate dall'attenzione, la disponibilità e continua pazienza verso tutti, specie gli anziani e i più deboli. Nella dimensione spirituale dell'Anno Santo, ciascuno di noi con il proprio stile di vita è spinto a interrogarsi sull'impegno con cui risponde alla fedeltà del Vangelo, ha proseguito Papa Francesco, invitando i militari ad essere i custodi del diritto alla vita attraverso l'impegno per la sicurezza e per l'incolumità delle persone.